benvenuti spettatori di le fonti tv a una nuova puntata di agora marketing parleremo di sponsorizzazioni nel mondo sportivo un settore in costante ascesa un settore che tra l'altro ha subito numerose trasformazioni nell'ultimo decennio a causa di diversi fattori dall'impatto inevitabilmente dei social media alla diversa fruizione del prodotto sportivo da parte dei tifosi della fan base ne parleremo con l'ospite che mi ha raggiunto in studio ovvero francesco alivia sport sponsorship and partnership director di denzu al cui naturalmente do il benvenuto grazie per essere qui con noi grazie mille per invito un piacere bene allora francesco direi di partire proprio dalla tua attività e dalla metodologia distintiva di denzu che lo ricordiamo uno dei più importanti centri media qui in italia corretto sì allora faccio una premessa che denzu non in italia perché in italia abbiamo appena lanciato la divisione sport appunto che viene rappresentata da me ma nel mondo abbiamo oltre 60 mila dipendenti cui circa 500 sono dedicati al mondo dello sport e quindi c'è un network internazionale che copre diversi paesi dove la competenza sport centrale in primis in giappone dove denzu conosciuta soprattutto anche per il rapporto col col cio quindi siamo diciamo l'agenzia delle olimpiadi possiamo definirci così per quanto riguarda l'italia è stato scelto da poco di aprire questa divisione in realtà c'era la volontà di farlo già pre covid poi ovviamente con l'andamento del mercato c'è stato un posticipare appunto di questa di questa scelta noi cerchiamo fondamentalmente primis essendo consulenti dei clienti abbiamo circa 200 clienti all'interno nostro gruppo il rapporto che cerchiamo di instaurare prevalentemente un rapporto consulenziale dove non lavoriamo sul brief del cliente ma lo costruiamo insieme al cliente il brief e quindi fondamentalmente avendo poi una competenza trasversale del mondo dello sport in italia ma non solo cerchiamo di offrire la soluzione che meglio risponde appunto a queste esigenze che poi definiamo insieme ma poi noi essendo con tantissimi clienti anche la società che determina la strategia media e di comunicazione del brand quindi questo ci riesce anche abbastanza facilmente insomma ecco nell'introduzione abbiamo accennato appunto all'evoluzione che il settore sta intraprendendo insomma diversi fattori abbiamo citato naturalmente i social media anche la fruizione diversa del prodotto sportivo da parte dei tifosi il cosiddetto co-watching ad esempio insomma ecco tutti i fattori che stanno influenzando ma come è cambiato poi nello specifico il mondo del marketing sportivo negli ultimi dieci anni sì allora io penso che l'evoluzione che c'è stata in questi dieci anni è un po' quello anche che è successo nel mondo dei media no appunto come dicevi tu se pensiamo dieci anni fa il 99,9 per cento le visualizzazioni di eventi sportivi era attraverso televisioni non esisteva il termine connect tv quindi non c'erano ancora le smart tv non c'erano i secondary device appunto come tablet smartphone quindi oggi come dici tu la fruizione cambia di conseguenza la sponsorizzazione sportiva si adatta a quel mondo in continua evoluzione dopodiché chiaramente anche gli obiettivi per le aziende quando abbracciano una sponsorizzazione sono cambiati radicalmente in precedenza c'era un po' una volontà di essere all'interno dell'evento sportivo quindi gli obiettivi erano prevalentemente obiettivi da parte alta del funnel quindi di ottenere la visibilità notorietà del marchio poi con l'evoluzione anche del del modo di raccontare lo sport quindi precedentemente c'era la centralità sul match day sul giorno della partita poi come dicevi tu con i social media è stato un allargamento anche del racconto del mondo dello sport con il dietro le quinte con la settimana che comunque viene sempre seguita attraverso social media tanti tanti club se parliamo di calcio hanno anche una tv tematica quindi fondamentalmente gli obiettivi dell'azienda si potevano spostare anche su altri livelli del funnel fino a poter strutturare magari delle campagne per la conversione dove modalità di ingaggio col tifoso come la gamification grazie anche all'evoluzione tecnologica lo sviluppo di app di soluzioni che andassero la direzione del tifoso erano assolutamente molto più semplici da raggiungere rispetto magari a dieci anni fa poi chiaramente c'è stato anche un impatto molto forte la tecnologia il mondo cambia il cove della cambiata ancora di più ha accelerato alcuni processi e quindi poi tutti quelli che sono degli elementi molto che si discostano molto dalla tradizionalità della sponsorizzazione sono stati centrali poi nella nell'evoluzione della stessa quindi poi magari successivamente potremmo potremmo parlarne un pochettino più nel dettaglio il mondo del metaverso il mondo delle criptovalute ha portato grande innovazione quindi anche poi mercati paralleli che crescevano hanno un po' spostato l'attenzione di quella che era la sponsorizzazione classica. Una differenziazione proprio merceologica anche all'interno del marketing sportivo e assolutamente ecco quello che dicevi era particolarmente interessante sulla modalità di fruizione perché ho letto i dati di una ricerca dove ormai sì il 50% dei tifosi degli appassionati di sport guarda l'evento live ma c'è una fetta altrettanto importante che ormai lo guarda indifferita stiamo diventando la cosiddetta generazione highlights e quindi questo naturalmente modifica poi anche tutte le strategie di marketing e a proposito ecco di trend ci sono naturalmente dei trend consolidati che riguardano il marketing sportivo e dei trend emergenti mi riferisco ad esempio la necessità magari di veicolare determinati messaggi che riguardino non so all'inclusione la diversity ecco facci una panoramica appunto di trend emergenti consolidati nell'ambito del marketing sportivo. Sì ecco riparto sempre dalla fruizione giustamente soprattutto millennials o generazione z appunto spostano sempre più l'attenzione quindi fanno fatica a seguire un evento sportivo nella sua interezza questo ovviamente comporta poi delle scelte da parte di brand che ovviamente devono andare in quella direzione per raggiungere i target quindi abbiamo visto anche la nascita di nuove piattaforme con il mondo dello sport che doveva abbracciare queste nuove piattaforme faccio un esempio di twitch dove l'attenzione è molto più alta perché perché rispetto al modo di fruire lo sport tradizionale quindi televisione dove l'utente è passivo su twitch o anche magari sul metaverso comunque su piattaforme di quel tipo ci può essere un'interazione continua quindi si creano delle community che seguono quel contenuto fruiscono di quel contenuto e nel contempo possono essere anche attivi perché possono possono interagire sia tra di loro sia anche spesso volentieri magari con dei personaggi all'interno dell'evento sportivo stesso. Come dicevi tu il mondo dello sport si fa anche portatore di messaggi positivi quindi sempre di più un po' quello che ci chiede il mondo di essere più sostenibili tra l'altro in questo sono anche orgoglioso di dire che Denso è una società che è impatto zero siamo attentissimi a livello proprio di azienda in tutti i paesi ad avere zero emissioni quindi abbiamo degli uffici dove fondamentalmente ci sono dei sistemi di domotica per non disperdere energia abbiamo tutte flotte di auto non non con carburante che quindi inquinano meno quindi anche il mondo dello sport come tutto il mondo richiede determinati determinati messaggi e quindi l'inclusività diversity sostenibilità in tutto quello che viene comunicato è assolutamente centrale soprattutto se guardiamo magari grosse sponsorizzazioni faccio esempio sponsor global delle olimpiadi o sponsor dei mondiali di calcio sempre di più attiva la sponsorizzazione veicolando quei tipi di messaggi e quindi poi importante per il rights holder quindi per l'organizzazione dell'evento per la squadra o per l'atleta stesso saper comunicare quei messaggi positivi ed essere credibile certo sì sì beh certo concetti come appunto ma non solo fair play come attenzione al green come sostegno ad esempio dello sport al femminile rientrano assolutamente in questo campo in questa categoria tu prima ecco hai accennato proprio alla differenziazione delle categorie merceologiche appunto riferendoci ai not fungible token e alle criptovalute un mondo che sta letteralmente esplodendo lo abbiamo visto poi ad esempio proprio nella serie a nell'ultimo campionato con criptovalute insomma che campeggiano sulle maglie dei club più importanti ecco quali tipi di così attività possono essere intraprese attraverso questo tipo ecco di di categoria merceologica perché si apre poi tutto il discorso che riguarda il marketing esperienziale corretto sì allora diciamo che anche in questo appunto pensando a quali sono quei mercati che supportano di più lo sport come investimenti nell'ultimo decennio sono stati dei cambi molto importanti se pensiamo che in precedenza soprattutto adesso prendo come esempio il mondo del calcio che poi anche lo sport numero uno per l'italia in passato c'erano grossissimi investimenti di società di betting sappiamo che nel 2018 è stato il decreto dignità che ha vietato per le aziende di betting di poter comunicare e quindi da lì c'è stato un grosso buco sono stati un paio di stagioni dove in effetti le società di calcio hanno avuto anche delle difficoltà perché perché hanno perso una buonissima fonte di ricavo fortunatamente poi ci sono stati dei settori che hanno visto nello sport uno strumento per poter accrescere la propria awareness e quindi sicuramente questi mercati emergenti che citavi tu quindi tutto il mondo delle criptovalute che si porta dietro gli nft si porta dietro magari i token che sono delle monete virtuali che vengono create verticalmente sono delle monete che rappresentano una squadra di calcio un atleta un evento ecco questo questo settore è cresciuto molto ecco in questa fase storica magari non vive proprio un periodo buonissimo perché il mercato abbastanza down ha perso però però l'anno esatto però soprattutto nella stagione qualcosina stagione 20 21 e poi stagione 21 22 quindi quella appena trascorsa sono state tantissime le aziende che hanno iniziato a investire nel calcio e l'hanno fatto anche con una modalità giustamente come dicevi tu molto diversa nel senso che prendiamo esempio socios ok che è una società che produce appunto token verticale delle squadre ma cosa generano questi token generano per il tifoso una possibilità di essere al centro delle decisioni del club e questo è comunque anche un po il seguito di quello che dicevo prima nel senso che c'è sempre più l'attenzione alla centralità del tifoso e quindi questo tipo di sponsorizzazione va esattamente in quella direzione cosa succede il tifoso facendo un investimento e quindi entrando a far parte del mondo del club detenendo questi token queste monete virtuali attraverso la piattaforma dello sponsor possono scegliere il nome faccio un esempio del centro sportivo piuttosto l'inno del club comunque decisioni ovviamente non sono decisioni di posso far entrare un giocatore in campo e far uscire l'altro non sulla parte sportiva del mercato però su quello che è il mondo della comunicazione del club o anche un po tutto quelle che sono le attività che influenzano la vita del tifoso stesso sono decisioni che poi sono spinte dai detentori di questi token ed è qualcosa di comunque molto innovativo negli anni passati pur non essendoci ancora questa categoria parlo di cinque sei anni fa comunque le società stavano provando a muoversi in quella direzione sviluppando comunque delle piattaforme dove ripeto il tifoso potesse essere al centro potesse essere attivo ok quindi per tenerlo ingaggiato tutta la settimana come dicevamo prima e quindi sicuramente questi investimenti importanti che sono arrivati hanno accelerato comunque questa attività rivolta al tifoso e dall'altra parte hanno portato dei ricavi importanti per le casse dei club e anche comunque ovviamente di altri rights holder in altri sport piuttosto che settori certo e poi anche con la possibilità tra l'altro attraverso questi token di fare proprio una vera attività di trading che sia in cui i tifosi sono direttamente coinvolti con i pro e contro perché naturalmente c'è anche insomma una parte soprattutto ecco che riguarda i ragazzi più giovani che magari non hanno gli strumenti ancora per capire questo mondo che deve essere tutelata inevitabilmente però aggiungo che spesso volentieri la fascia più giovane poi quella più attenta a questi nuovi trend e quindi quelli che poi riescono a essere anche comunque molto attenti a quali sono le modalità di investimento devo dire l'ho vissuto anche un po un po come esperienza che le nuove generazioni sono molto propense a questo tipo di attività e anche molto attenti poi a scovare le metodologie per quindi hanno un'educazione finanziaria superiore rispetto diciamo ai numeri forse un po troppo però voglio dire però però comunque assolutamente sì assolutamente sì ecco rimanendo appunto parzialmente comunque nel tema perché not fungible token e criptovalute sono legate in un qualche modo al metaverso il metaverso è un mondo che si sta aprendo e sicuramente caratterizzerà il futuro anche il mondo insomma delle sponsorizzazioni a livello sportivo ricordando un particolare che riguarda il campionato appena trascorso con una partita proprio del campionato di serie a ovvero milan fiorentina che è stata la prima in assoluto trasmessa nel metaverso quindi con la serie a che ha anticipato anche grandi leghe come la premier league come la liga spagnola ecco quali sono le opportunità ovviamente per il marketing sportivo che si aprono con il mondo del metaverso beh allora il metaverso fondamentalmente è un duplicare il mondo reale quindi un po' come succede anche con altre cose faccio un esempio la visibilità led bordo campo che adesso ci sono delle tecnologie che consentono di duplicare la visibilità a seconda dei mercati che vedono la partita no quindi se io sto guardando una partita in italia vedo barilla bordo campo la sto guardando negli stati uniti posso vedere un altro marchio quindi un po' come quindi questo esempio che stavo facendo il metaverso quindi dublica e quindi crea una scalabilità di una serie di attività che possono essere fatte in primis assolutamente quella di creare delle room dove io posso entrare e quindi seguire la partita ovviamente fortunatamente insomma la serie a che nell'ultimo triennio veramente ha avuto una crescita non solo di marketing sportivo ma anche di tecnologia comunque sempre rivolta verso il futuro mentre magari in passato era molto indietro alle altre leghe ha fatto questo test ecco oggi il metaverso non converte ancora numeri straordinari perché comunque si se ne parla come un po il appunto web web 3.0 no quindi insomma si parla del futuro c'è qualcuno sta parlando anche del web 4.0 quindi già si sta andando verso 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 orizzonti ancora molto più lontani abbiamo l'apparato tecnologico che ci consente ma l'idea c'è esatto si sta per essere sviluppata assolutamente quindi tornando a quello che mi stavi chiedendo quindi su quali sono le opportunità per un brand allora sicuramente la fruizione del contenuto e quindi poter guardare la partita lì e quindi ripeto duplicare avere delle piattaforme nuove innovative che comunque abbracciano molto quei target giovani dall'altra parte si possono strutturare delle temporary room o comunque delle delle zone come fossero dei fan zone ok delle zone per il tifoso dove avvengono una serie di cose quindi dove posso trovare in esclusiva il prodotto dello sponsor dove attraverso il mio avatar posso partecipare a delle attività di gamification quindi anche qui la parte comunque l'interazione con il tifoso chiaro fatto comunque in un contesto diverso virtuale dove fondamentalmente vengono abbattute tantissime barriere non solo geografiche ma anche delle possibilità che ovviamente in ambienti questo tipo virtuale sono n sono infinite ci sono alcuni club Manchester City ad esempio ha creato uno spazio virtuale all'interno di uno di questi metaversi che tra l'altro sono tanti perché sono delle piattaforme che sono competenti tra di loro dove fondamentalmente il tifoso può vivere la vita del club con il proprio avatar quindi insomma è qualcosa di molto curioso ad oggi ripeto le conversioni non sono straordinarie per quanto riguarda milan fiorentina si parla circa 5 mila persone che hanno visualizzato la partita lì però è un qualcosa che farlo e sono ancora poche le aziende che si sono mosse in quella direzione chiaramente crea grandissima discontinuità con il passato e comunque sono attività che vengono fatte quasi più per PR per dire sono arrivato prima io e sta diventando una sorta di must sta diventando un qualcosa che devo fare se voglio comunque avere uno sguardo proiettato al futuro certo sì sì c'è la corsa poi insomma la concorrenza tra anche le varie squadre stanno ancora capendo in molti no esattamente cos'è quali sono le opportunità noi in denzu tra l'altro abbiamo creato un team proprio verticale per lo sviluppo di progetti sul metaverso per dire con benetton abbiamo fatto un'attività contesto pochettino diverso perché era un contesto gaming dove abbiamo creato un'isola benetton dove c'erano gli avatar che si vestivano con abbigliamento benetton e comunque sono quelle cose questo era fatto in un contesto di un videogame ma in quel caso il videogame è comunque un mondo virtuale si può considerare un metaverso certo però magari ecco ci sarà in un futuro la possibilità per chi ad esempio ama il calcio inglese dice io vorrei un giorno provare l'esperienza insomma di una partita vissuta direttamente in uno stadio inglese magari vedermi un liverpool city ad anfield magari ecco attraverso l'avatar ci sarà tutta la parte dell'organizzazione del viaggio della scomodità dello spostamento che verrà eliminata io potrò godermi quel tipo particolare di esperienza direttamente nel metaverso è una possibilità assolutamente sì e tra l'altro un'attività simile non nel metaverso ma comunque con una modalità virtuale è stata fatta dall'embie diversi anni fa che hanno posizionato in alcune aree del palazzetto delle telecamere dove l'utente da casa col visore ok vedeva la partita da lì e quindi fondamentalmente a seconda di come lui si muoveva la telecamera si muoveva ed era un'immersione era più un'attività di augmented reality se possiamo chiamarla però comunque il concetto è abbastanza simile nel senso vivere in un mondo parallelo in quel caso comunque c'era una connessione col mondo fisico rispetto a quello virtuale però insomma di quelle attività io penso che se ne vedranno tantissime e ripeto poi si possono abbattere le barriere anche perché poi il contatto magari con l'avatar di un giocatore può essere più facile rispetto al contatto con un giocatore vero e quindi ripeto abbattere le barriere e creare tantissime opportunità che duplicheranno poi quelle che già esistono ecco abbiamo parlato appunto di leghe di grandi club che si stanno muovendo però ti chiedo in un mondo in cui domina almeno attualmente il personal branding forse ancora più della squadra il singolo atleta può rappresentare uno strumento anche se è brutto diciamo utilizzare questo termine per creare un legame ancora più profondo tra l'appassionato il tifoso e il brand oppure no? Sì assolutamente allora qui entriamo anche nel contesto di valutare lo sport come mezzo di comunicazione e quello che noi scopriamo è che lo sport in generale converta di più perché comunque per un brand potersi associare con una squadra con un evento sportivo significa comunque poter abbracciare un momento in cui il tifoso vive delle passioni molto forti quindi spesso c'è un seguito che magari in altri settori non vengono concessi i club si stanno comportando da influencer spesso volentieri però sicuramente quello che vediamo è che il personaggio singolo ci sono proprio delle ricerche che lo dimostrano abbia un livello di conversione e di engagement che è anche due o tre volte superiore rispetto magari a quello che può fare un cantante o comunque dei personaggi singoli di altri mondi quindi la tua dichiarazione è assolutamente valida dal mio punto di vista nel senso che io sono un grosso supporter e comunque lo vediamo nel senso che poi spesso gli atleti sono anche sempre più attenti a portare dei valori positivi quindi è molto semplice trovare dei legami anche con i valori di marca magari di determinate aziende e quindi spesso ci sono anche delle comunicazioni e delle campagne che sono anche molto naturali e molto credibili perché appunto l'atleta ha quella credibilità perché porta passione perché comunque anche il suo vissuto spesso volentieri gli atleti non tutti perché non tutti gli atleti ovviamente sono assimilati a degli elementi positivi però spesso l'atleta significa che ha fatto un percorso dove si è allenato, ha rinunciato a tantissime cose all'interno della sua vita e poi appunto magari ha vinto una medaglia piuttosto che ha avuto dei successi e quindi c'è quel concetto di avercela fatta dopo tante sofferenze, dopo tanti sacrifici è stato di allenamento, di fatica che è molto simile a quello che magari l'azienda vuole comunicare di se stesso certo, quindi è un tramite proprio per veicolare determinati valori parlando invece ancora di futuro, dell'evoluzione del mondo delle sponsorizzazioni sportive nei prossimi anni abbiamo citato diciamo due nuovi trend che sono quelli degli sport al femminile e degli e-sports abbiamo citato le parole chiave dei prossimi anni oppure no? penso di sì, questi ultimi due non li chiamerei più trend onestamente perché ormai sono delle realtà nel senso lo sport femminile se guardiamo dal 2020 al 2021 a livello di investimenti in comunicazione ha fatto un più 146%, ok? da un punto di vista di audience si parla addirittura di 5 volte tanto quindi alla fine, ripeto io penso che sia anche un po' il contesto in cui noi stiamo vivendo oggi c'è grossissima attenzione rispetto comunque alla parità tra uomini e tra donne e quindi anche lo sport femminile ha assunto una credibilità all'occhio di tanti con anche magari dei momenti storici molto importanti se guardiamo la lega femminile di calcio che ha dichiarato le giocatrici come professioniste che è comunque un passo molto importante le televisioni sono sempre più attente perché comunque c'erano per carità degli sport dove alla fine il settore maschile e quello femminile sono paritari come guardiamo il nuoto, l'atletica, il tennis no c'era già quella parità fortunatamente anche attraverso i sport di squadra c'è adesso quell'attenzione che gli sport femminili meritano e le aziende devo dire che su questo sono veramente molto ben propense perché poi ecco il punto debole spesso e volentieri dello sport era proprio avere un target prevalentemente maschile invece con l'apertura anche sport di squadra femminili insomma quello viene un po' pareggiato gli sport è sicuramente un tema che io ho vissuto anche perché nella mia passata esperienza ho seguito un progetto di sport importante in Italia con Lega Serie A e anche quelli ormai sono una realtà nel senso che abbiamo visto che ormai ci sono mondiali dove ci sono giocatori che sono al pari di atleti quindi sono conosciuti, sono stimati anche loro sono poi oggetto magari di contendersi di aziende che li vogliono per rappresentare proprio marchio anche per fare le attività di comunicazione e gli sport ecco a differenza dello sport tradizionale è visto un pochettino più democratico nel senso che comunque anche lì essendo un qualcosa di abbastanza nuovo e comunque di molto recente le barriere sono state abbattute quindi anche il percorso per diventare un professionista spesso è magari più rapido rispetto a sport tradizionali dove comunque c'è anche molta più competitività e comunque ripeto sono portatori anche quelli di elementi e di messaggi positivi e io li considero delle realtà nel senso che poi quando si presenta ad una società una serie di opportunità di cosa poter sponsorizzare, quale mondo poter abbracciare questi sono due mondi che io considero sempre Ecco ti faccio commentare un'ultima frase proprio riguardo appunto al rapporto tra gli sport tradizionali e gli sports l'ha detta Moore che è l'ex CEO del Liverpool e mi ha colpito quando l'ho letta perché lui ha detto voi considerate il nostro competitor il Manchester City piuttosto che il Manchester United ma in realtà il nuovo competitor del Liverpool se guardiamo da qui in avanti è Fortnite quindi lui ecco opera una sorta di contrapposizione tra sport tradizionali e e-sport è vero oppure invece magari può esserci una compenetrazione tra questi due settori? Sì allora io penso che questa dichiarazione sia anche il frutto del cambiamento della visione dei rights holders sportivi nel senso che ormai lo sport non è solamente sport ma intrattenimento e quindi in realtà questo è un po' sono un po' uso questo termine le mire di espansione degli sport a voler essere intrattenimento a 360 gradi che quindi portano ovviamente a voler ampliare la propria base d'utenza e quindi a cozzare tra virgolette con altri con altri mondi come appunto quello dei videogame perché perché comunque l'abbiamo detto anche prima in effetti le nuove generazioni sono molto più propense magari ad attività di quel tipo dove sono ingaggiati se creando le community sono molto più attivi rispetto allo sport che tranne quando si pratica che ovviamente è un tema molto diverso però quando si fruisce sport quando si segue un evento spesso appunto c'è quella passività che allontana le nuove generazioni che invece sono multi device fanno due o tre cose contemporaneamente non tengono l'attenzione alta per quindi appunto come dicevi tu giustamente prima si sta creando la generazione degli highlights o degli snackable content se vogliamo chiamarli così che è un po' il risultato anche della crescita dei social network dove il contenuto è sempre più breve certo e quindi è il risultato e infatti Mouko concludeva dicendo la battaglia che ci aspetta sarà la battaglia dell'attenzione quella di cercare insomma proprio di tenere lì lo spettatore per il maggior tempo possibile ma i tempi lo abbiamo visto si stanno riducendo drasticamente sì ci sono esperti di sport che addirittura in libri futuristici che parlano di come sarà lo sport tra vent'anni dicono che ci sarà sempre di più un disinteresse verso la partita verso l'evento live ma si moltiplicherà sempre di più poi tutto quello che è extra quindi sono gli highlights, altri contenuti, la vita degli atleti, della squadra eccetera io onestamente su questo sono un po' scettico perché comunque penso che la spettacolarità dell'evento specialmente quando c'è il grande evento ovviamente penso che resterà imbattibile anzi su quello ci sarà una crescita costante però comunque questo fa riflettere e bisogna essere sempre pronti anche se magari la mia generazione non è prontissima per il metaverso per altre cose di cui abbiamo parlato però comunque bisogna sempre ragionare in quello che arriverà in futuro e poterlo cavalcare per essere comunque centrati su quelli che sono è certo anticipare la realtà e non inseguirla alla fine assolutamente io ringrazio tantissimo Francesco Alivia Sports Sponsorship and Partnership Director di Densu per questo bel approfondimento sul marketing sportivo è stato un piacere averti qui alle fonti tv grazie mille è stato un piacere e alla prossima bene allora abbiamo concluso qui questo focus dedicato appunto al mondo del marketing sportivo si chiude dunque questa puntata speciale di Agora Marketing io naturalmente vi rimando alla programmazione di Le Fonti TV grazie mille è stato un piacere a tutti grazie a tutti